A meno di 24 ore dalla chiusura delle liste elettorali per la chiamata alle urne del 25 settembre, i candidati marchigiani della Lega partono con la benedizione di Matteo Salvini. Il segretario federale della Lega nel pomeriggio ha fatto tappa all'hotel Excelsior di Pesaro per dare il via alla campagna elettorale del partito. Un partito che schiera ben due assessori regionali dell'attuale giunta a Quaroli, il fanese Mirco Carloni predestinato alla vittoria nel collegio uninominale di Pesaro Urbino per la Camera dei Deputati e Giorgia Latini pronta a tornare in Parlamento dal collegio uninominale di Macerata. Al tavolo dell'Excelsior anche i candidati ai listini plurinominali del proporzionale con Riccardo Marchetti, deputato e commissario Lega Marche, capolista alla Camera davanti a Elena Campagnolo, Giuliano Pazzaglini e Silvana Ghiretti e con Mauro Lucentini, deputato uscente in versione capolista al Senato, davanti a Laura Laviano e Alessandro Amadio. Sono orgoglioso di partire dalle Marche per questa campagna elettorale durante la quale vogliamo promettere poco perché poi vogliamo mantenere tutto e la priorità per la Lega è e sarà lavoro e tasse. Quindi lavoro vuol dire azzerare la legge Fornero e arrivare la quota 41 che dà a circa un milione di lavoratrici e lavoratori la possibilità di andare in pensione e apre tanti spazi di lavoro ai giovani e sono contento che anche Cigelle e Cisle Will sostengano questa battaglia della Lega. Tasse significa estenderla a flat tax ad altre partite IVA e in prospettiva anche ai dipendenti e alle famiglie e ai pensionati fino a 70.000 euro di reddito familiare, quindi non si tratta dei milionari o dei ricconi. e poi c'è un tema di sicurezza ormai ai me quotidiano con episodi di cronaca nera che non si contano, un altro stupro a Bologna nelle ultime ore, baby gang, sbarchi continui, quindi al punto di vista della sicurezza, del controllo delle città e del contrasto all'immigrazione clandestina penso che la Lega sia una garanzia per gli italiani e per gli immigrati per bene che ci sono. Nelle Marche contiamo di vincere ovunque, adesso con tutta la scaramanzia e l'umiltà del caso perché sono solo gli italiani e i marchigiani a decidere con il loro voto il 25 settembre, però l'aria è veramente buona, c'è tanta voglia di cambiamento. Se il centrodestra vince ci sono cinque anni di stabilità, di sicurezza, di tranquillità, una maggioranza finalmente omogenea, senza PD e 5 Stelle a fare i capricci. Io sono orgoglioso del lavoro di donne e uomini della Lega in Regione Marche, dei nostri sindaci, dei nostri amministratori regionali. Abbiamo fatto scelte su persone molto valide, tante altre in gamba ce ne sarebbero state, però purtroppo la riduzione delle liste a questo ha portato, però c'è una bella squadra e soprattutto dal 26 settembre altri marchigiani potranno portare a Roma il loro importante contributo. Qua penso che se il centrodestra continuerà a lavorare bene, se la Lega continuerà a lavorare bene, vinceremo in tutti i collegi. La Lega mi ha chiesto la disponibilità, ovviamente io l'ho data e devo dire che sono molto fiero di poter rappresentare la Lega e tutto il centrodestra nel collegio di Pesero e Urbino, che è il mio collegio dove ho cominciato a fare politica tanti anni fa e oggi penso di poter portare un bagaglio di esperienza, di competenza anche maturata proprio in questi due anni in Regione, non solo di conoscenza dei problemi ma anche di qualche idea di come risolverli perché in due anni abbiamo visto che poi tante delle decisioni prese si risolvono su Roma e quindi è importante anche lì avere una collaborazione, un collegamento tra la Giunta regionale e le istituzioni romane. Ora quello che noi stiamo preparando è una proposta politica per i cittadini delle Marche, in particolare di Pesero e Urbino, in modo che si sentano rappresentati e possano votare chi ritengono più opportuno in questo caso. Io credo che la Lega che ha dimostrato anche di saper valorizzare i territori, gli amministratori locali, possa essere un partito che più di chiunque altro ha questa cultura di portare a Roma i problemi del territorio.